Ragazzuoli, siamo arrivati alla quarta ora della mia maratona e come vi avevo promesso, purtroppo siamo su un gioco chiamato Getting Over It 2 dalla massa, però in realtà si chiama A Difficult Game About Climbing, un difficile gioco che riguarda l'arrampicarsi, un gioco molto esotico, un gioco che si dice riesca a far bestemmiare le persone più calme. Io lo sapete, sono una persona estremamente chill, sono una persona estremamente calma, ho paura, soprattutto perché sto cercando di capire le meccaniche, tipo per muoverti, io adesso ve lo farei vedere, sto facendo così col mouse per muovermi, immagino che per attaccare la mano io debba usare il mouse, ok, ah così si alza e si abbassa. Non sembra troppo difficile la meccanica di gioco, vediamo come, vediamo, ok, sembra lineare, così facile, ehi, sono un pro, ok, devo imparare a stare zitto ragazzi, questa cosa verde mi fa scivolare tipo, quindi devo stare attento a non aggrapparmici, ok, ci aggrappiamo questo, a questo qui, immagino di poter andare su, non so cosa fanno i cespugli, ho molta paura, ok, no ragazzi sono fortissimo, wow, ma sono troppo forte ragazzi, di cosa stiamo parlando? Mi pentirò di quello che sto dicendo a breve, non so se ha una stamina questo personaggio, io spiego, no zi, come ci arrivo là in cima, devo aggrapparmi alla parte più estrema di questa, ui, no, ok, ragazzi, vi farei vedere dove sto mettendo la mia mano per arrivare qui in cima, questo mi fa paura però, perché non vorrei che prendo la scossa, no, ok, sembri tu lollo, sono io bro, l'ho capito adesso, questa è una violazione zi, è una violazione, non è vero che gli assomiglio, non si spacca questo, ok, ragazzi, ma sono un professionista, no, infatti non è una buona idea, ok, mamma mia, quanto mi stai gasando zi, no, non dirmi che devo avere a me, no ragazzi, io ho paura di questa cosa, sto trattenendo tantissimo dal tirare un urlo, veramente il vicino di casa viene a chiedermi se è tutto a posto e gli dico, guarda, sto per diventare come il personaggio di questo cacchio di gioco, no ragazzi, ho avuto una fortuna assurda all'inizio, non è possibile, guardalo, guardalo, ragazzi, ho preso il tocco, ho preso il Gianmarco, no, devo andare di qui, secondo me c'è qualche exploit comunque, forse mi conviene fare così, wow, fa delle cose non umane comunque, e ho paura che se lo muovo troppo si veda quello che c'è dietro al drappeggio, quindi devo stare attento, ok, no, ehi, 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 bro, no ragazzi, è difficilissima sta parte, prima l'ho fatta al primo tentativo nel clutch, ok, sì, ce la fai, come cacchio arrivi lì in cima, devo passare da questo, bravissimo, no zi, però devi rimanere attaccato, no, ce la fai, no zi, non ce la farai mai, no, era mio, sì, a sto giro non falliremo ragazzi, non l'ho accetto, va qui, in cima qua, bravissimo, spero che quel cosa non crolli by the way, lo vedo veramente male, le mie cariche non sono di per sé così male, è molto intuitivo, aspetta perché qua scivola, piano, il problema è che, cioè, deve avere uno spazio infinito sulla scrivania e vi farei vedere, ragazzi, non ho praticamente spazio, allora qua devo capire come cacchio si scende, perché non l'ho capito, ok, penso di aver fatto la giocata, Allora, porca di quella vacca, lo so che ce la puoi fare, uomo pelato, ho trovato la strategia, faccio scorrere il mio mouse su e giù come se non ci fosse un domani, c'è qualcuno che l'ha finito sto cacchio di gioco, da cui prendere spunto, guardare, è il tizio del pentolone, è il tizio del pentolone, sì, è esattamente il tizio del pentolone, speravo di non vederlo mai più in vita mia il tizio del pentolone, sei un figlio di veramente una donna splendida, una donna pelata, Io non mi fermo, ragazzi, questo gioco lo finiamo, costi quel che costi, questo gioco lo finiamo, saldo al sud che non si distrugge le mani, allora, ho una teoria che secondo me alla fine di quando ti sei arrampicato ti fa vedere la sua faccia, sarei curioso di vederla, Ehi, ti ho visto che non hai lasciato like al video e mi raccomando, ricordati di bere due litri d'acqua al giorno, io ho appena finito i miei, è importante per la tua salute, mi sto distruggendo le mani, da quanto ce l'ho incollata e allo schermo, ve lo posso giurare, ragazzi, sei un... Porca... Ragazzi, mi sta venendo il tunnel carpale a giocare a sto gioco, calma e sangue freddo, allora, dobbiamo giocare di astuzia, questo è un gioco per persone che sono astute, io non lo sono così tanto, ma sento di poter fare qualcosa, ho finito Only Up e Only Up 2, ho finito un altro giochino simile, ok, non mi ricordo il nome, l'avevo finito con il maestro, allora, qui devo scendere ancora un pelo, bravo, grappati lì, bravissimo, allora, qui mi conviene salire, no, zio, zio, non è, non stai facendo calistenics, bro! L'albero fa dei rumori bruttissimi, vai sul... bravo, non che quello sia meglio, però a quanto pare... devo aggrapparmi alla roccia più alta, allora, facciamo che switchiamo la mano, bro, bravissimo, no, vai così, oh cacchio Ok, no, zio, ce l'avevi, che cacchio fai? Ok, perché non ti aggrappi a sta cacchio di cosa del... My man, sei in cima, non dovrebbe succedere questa cosa, perché ti stacchi la mano? Lo fa apposta, zio pera, oh, ok, fratello, no, perché? Perché questi oggetti non si aggrappa? Non si aggrappa! Ok, ci siamo, piano, la calma è la virtù dei forti, la pazienza è la virtù di... non di me, no, scherzo, un po' paziente lo sono Uno, due, tre, un muscle up? Yes! Ma è bello che non puoi neanche riposarti, cioè, io per riposarmi devo comunque tenere schiacciato il mouse Non posso guardare la clip! Non mi mandate le clip in chat, come le faccio ad aprire se sono... se devo rimanere con il mouse così? Non posso neanche venire... no, ragazzi, alla fine Devo capire un attimo cosa c'è qui sotto, non lo so, però l'idea migliore mi sembra fare così Ok, va bene, io devo arrivare là, come cacchio ci arrivo là, ragazzi, è impossibile Letteralmente impossibile arrivare là in fondo, impossibile Porco di quel cane! Ehi, ma che arena! Quella sua corpo allegria, ma che arena! Nananananananana Qui, bravissimo Ehi! 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 Ragazzi, il mio personaggio si è svegliato, zio Pera! Forse sono io che mi sono svegliato, visto che lo sto controllando io, eh, eh, whatever Guardalo! Mhm! Ok, bro! Yes! Mi stai gasando! Perfetto! Bravissimo! Su! Yes! Ormai abbiamo capito che... Bisogna fare il trickshot Quando arrivi a quel punto, grappati con la sinistra sulla metà del masso di mezzo Preparando tipo qui, bro, in questa zona qua Dove sto accarezzando Don't touch my ding ding dong Don't touch my tralalalala Oh, yeah! Quel dito dove... Nooo! No, 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 no! Ehi, ehi, ehi! Ehi, ehi, ehi! My man! My man! Mi sembra un po' esagerato, eh! Mi sembra leggermente... Da qui, ragazzi, mi state dicendo No, ma non ci arriverò mai, ragazzi, da lì e là Forse sì, invece Porco il... Zio Pera Pelato del cacchio Pelato del cacchio! Veramente, devi fare una brutta fine, zi! Spero che un... Una volta che cadi giù... Galleggi No, ragazzi, quel salto è impossibile Ve lo giuro, è impossibile No, zi! Quell'acqua fa ancora fiorire Allora, da qua abbiamo capito che devo aggrapparmi qui sopra Questo non è più un problema Mi devo aggrappar qui sopra E fare una di queste cose qui Bravissimo! Sei troppo forte, zi! Il problema è questo, ragazzi Io ve lo giuro, come cacchio fai ad arrivare lì? Devo fare uno swing così Al prossimo, ve lo giuro, potrei non farcela Potrei non resistere alla mia pazienza, ragazzi Dimmi le U Allora, ascoltami Ti sto ascoltando, fra Ti devi mettere un pizzico più a destra Un pizzico Fra, ma che stai facendo? Niente, niente, qua Fra, ma sei un animale Non sto facendo niente Allora, l'altezza è perfetta Adesso ti devi dondolare E poi ti butti Così? Ti devi dondolare tanto Dondola, dondola Con due mani, con due mani Con due mani aggrappate ti dondoli Ma sei scemo, zi Fa Come sono scemo? Con due mani aggrappate Eh, ma sto qua si stacca, zio Fera No, frate, vai tranquillo Dondola, tipo al terzo dondolamento Ti butti un po' più su, ovviamente Ok Oh! Non ci posso credere, fra No! Porco No! Dimmi, Leu Sto chiamando la polizia in live, eh Leu Ma tu l'hai finito sto cacchio di gioco, Leu No, frate Sono arrivato abbastanza in alto Ma non l'ho finito A che checkpoint sei arrivato? Quello la... Nella seconda acqua tu ci sei arrivato? No! Dopo c'è la cascata Non penso di esserci arrivato, zio Sono ancora qua Guarda che eri stra vicino, eh Cioè, tu quando sei arrivato lì Eri molto, molto vicino Ah, e lì c'è l'altra acqua Frate, devi salire un altro pizzico Ma il resto è facile Cioè, l'unica roba difficile È quel salto che hai fatto prima Leu Tu prova a dire qualcosa, te lo giuro, fra Te lo giuro No, 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 no No, non dico niente, non dico niente Sì, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? No, non panicare, non panicare Non sono panicato Si è bloccata la mano Ah, si è proprio bloccata Buona donna Non si aggrappa, zio, te lo giuro No, allora, vedi, vedi No, 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 fra, 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 fra Ho lasciato subito il mouse È un figlio di... Ma poi probabilmente diventi così bravo a sto gioco che fra che ti muovi ad una velocità incredibile E infatti, quindi ti devi calmare No, non mi calma, zio, non mi calma Sì, ti devi calmare Ci sei, ci sei Allora, ti devi lasciare andare perfettamente quando il personaggio non si gira al contrario Tranquillo se scende, tranquillo, è giusto Dai, su No, sì, non mi fido che è giusto Però ti devi lasciare andare, cioè tipo al primo scivolamento ti lascia andare Così non va troppo giù Frate, frate, scontami No, adesso mi spieghi cosa c'era di sbagliato Mi spieghi cosa c***o c'era di sbagliato No, 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 no Che c***o ridiche, spero che... Bocca chango, siete creda Io ho una mitomenina del rap di nanda te È più grande di certe cose che maneggia una signora che conosco molto bene Di cui non farò nome e cognome Lo sai benissimo che non sto scherzando Quell'altezza è perfetta, devi dondolarti tanto, vai tranquillo Però sei attento a quando ti lasci Non troppo avanti, non troppo indietro Non con una mano, è meglio due Ma veramente io No, no, adesso Nico mi spieghi tu il tuo ragionamento Perché non è possibile che siamo in sei in colla e non riusciamo a farne uno È in giù è in Oh, però sta prendendo manualità a salire, eh Sì, sì È l'inizio, Lollo No, non glielo dire No, non è vero, stai cappando, Nico Zio, non si aggrappa Perché c***o si ribalta Perché... Porco Il bro pensa di essere il duomo Non lo so, zio, però Ma ci rimane, testa in giù Porca vacca Non ho capito Riferimento storico contestualizzato No, ma non ha senso che fai tipo l'advertise alla fine, cioè Ritiro tutto, ragazzi, comunque, eh Però mi stanno venendo delle scariche alla mano che non sono normali, te lo dico Perché sto schiacciando troppo il tasso C'è un problema Se lo faccio due non ha troppo slancio, perché... Sì, e faglielo capire che devi lasciare entrambi i tasti con due Eh, eh, eh Bello È un tryhard È un tryhard Eh, infatti No, azi, cos'è questa cosa qui? Allora, la mano mettila più in alto Così non ti scivola O se ti scivola va giù ma non cadi Aia La mano d'appoggio, quindi la sinistra Poi ti allunghi e cerchi di aggrappare Occhio No, però un po' si abbassa, mi pare, no? Eh sì Aspetta un secondo No, no, dai No, ragazzi Non avete idea, sono lì così, con le mani fa schiacciate dentro al mouse Bravo Bravo Ok Bravissimo Pratimo Allora, prova a fare una cosa Prova a guardare solo la faccia di Lollo mentre gioca No, no, sì, no No, state esagerando No, state dando delle idee State dando delle idee No, comunque è bello perché Comunque lui Il personaggio è il cosplay di Lollo Basta questa storia No, ragazzi State esagerando State esagerando Bravissimo Oh, qua è facilissimo Attento che piove qui, puoi scivolare Come piove? No Ora posso cadere Sì, 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 sì No Porca Ma l'aereo lì sopra non è lo spot Di cosa? Di dove andare No, sta iniziando a impanicarmi Allora, se salti anche tu in real life non va più avanti il personaggio comunque Non sto saltando in real life Ah, ma aspetta Aspetta C'è una pianta qua No, però no Deve andare alla pianta Non mi ricordo, sai Ma prova, tanto in caso cadi Tu mi stai dicendo che se io cado qua Praticamente torno all'inizio Dai, ti prego Bro, sto pelato del cacchio non ci arriva Devo far parkour Non lo so, eh Bro Primo ad arrampicarsi sul muschio A me non sembra che stai andando sopra Adesso, dove c'è quella pianta viola? Sotto No, fratello, dove va? No Zio, l'asterocce mi fanno una paura Io, purtroppo, sono triste Eh, tipo, arrivare a quel tronco è una roba Praticamente di precisione millimetrica Voi non avete idea Devi proprio arrivare al millimetro Sì, sto lanciando il mio mouse contro il case Da quanto lo sto spingendo in avanti Oh, sì, Lollo Vedi che ti cade del pc, poi Oh, aspetta, è quello lì lo spot Quello dove c'è questa mano qua No, zio Non fartela portare giù dal fiume Eeeh Fra, è tutta una questione di timing No, scherzo, è impossibile, basta Oh Bravo Ok Lasso Tu vuoi concentrare che qui è facile Orca vacca, ti butta giù di brutto Dove stendere? Ok No Ok Bro Sì, ce l'hai, è tua È dritta Non ti puoi sbagliare Noi No, fra, sta perdendo il grip Sta perdendo il grip sulla roccia No, 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 è del grip Usa tutte e tre le mani Ok Bravo, bravo, bravo C'è qua di qui va all'inizio Quindi, nessuna pressure Nessuna pressure, sta tranquillo Potevo andare da sopra Mamma mia, ragazzi, che ansi No, tranquillo Tanto non succede niente se cadi No, no Ci sono due rocce Non so quale Eh, Lollo Dovrai andare magari a quella sotto, no? E poi Allora, facciamo una Ah Pensavo peggio, dai Mi sa che è meglio se vai a sinistra, comunque Senza andare su Ma da qua non puoi No, non puoi No, zio, questa cosa mi fa paura Sono troppo al margine Oi Lollo, per favore Puoi mostrare la tua postazione Riflettendola con la tua pelata Sto zitto e la mostro No, ragazzi Questa è completamente viola No, aspetta Qua No, fra, finisce male Aspetta, devo andare più all'estremo Dove ho la mano lì? Oi, ce l'aveva, fra Era sopra con la mano No, zio, finisce malissimo Finisce malissimo Aggrappati Un po' più su Comunque devi fare Verso sinistra Tastino per alzarti E la prendi Così, esatto No, non panicare Non panicare Cos'è che significa che se cade qua? Tranquillo, non succede niente Funziona sempre Ehi Bro, piano Come cacchio ci arrivo là in cima? Ci arrivi, ci arrivi Stai calmo No, te stai che pronto Secondo me Ah no, dal cartello, scusami Pensavo il cartello non fosse toccabile Oh Gesù Cristo Non ha senso È lì Ah no, non è Gesù No, zi, la mano così però mi fa Mi fa Mi dà una speranza Oh Clean Zio Puledro, ragazzi, cosa sto facendo? E vabbè, ma qui è dritto, cioè Infatti, qui, vabbè, sì No, zi, cos'è sta roba? Vai tranquillo Ah, qua Oh Terzo checkpoint Facca Ragazzi, sto tryhardando durissimo Aspetta, ho un'idea Ma guarda, ti dirò Finché continuo a cadere qua A me va benissimo, eh Nel chill Bello Ok, devo arrivare là No, zio, questo è tosto, eh Zio, ma questo è tipo pixel perfect Bro, ma guarda che polpacci c'ha il tipo Porca vacca, non li usa nemmeno C'ha delle braccia Non li usa, esatto Bro No, vabbè, sì, sono il pro player Buono last minute Oddio Stai, attento Tu ci sei arrivato qua, Leo No, qua no, qua no Ma più che altro Vanno a certo rispettato Porco Bro, qua è facile Basta fare il primo Ormai sono diventato un pro Sì, sì, sì Qui ci sei, qui ci sei Me lo fai anche col 180 Bro, col 36 è stato crazy Vero Attento, fratello Bro Aspetta, ma scusami Aspetta che sale Aspetta che sale No, fra qui Frate, fai il giro tanto Aspetta Sono sicuro Certo Vai, ora ci arrivi, dai No, zi E devi andare a destra Devi andare a sinistra, là Che cacchio è quel legno Che sporge, frate Dici, devo andare lì Secondo me sì Per forza No No, por Ehi, guarda Ma no, zi Bastava far così Veramente Guarda No, bro Ce l'avevi Letteralmente lì eri Dai, rimani aggrappato al volo Ma bisogna Bisogna essere di cervello Uomini di cervello Porco zio Quello lì in cima Fra Quello lì in cima Gira velocissimo Ma che cacchio stai dicendo Mamma mia, zi Quanto cacchio sono forte No, ma guarda Quello lì in cima, zi Allora, ti aggrappi No, bro Quello l'unico è Io andrei tutto a destra, frate Tutto a destra Eh, devo attaccarmi Al punto più estremo qua, però Così posso fare così No Sì, sì, ho capito Vabbè No, qua ti conviene Che poi ti sposti Poi bene a destra Ce la fai, ce la fai No, no Non ha tenuto la stamina Non capisco Se abbia della stamina Ma non ha la stamina Secondo me Eh, perché è caduto allora Non ho lasciato i tasti Ne niente, zi Vai Qua devo andare bello su Aggrapparmi con questo Verso destra Ok Qui rimanere attaccato Con due mani, però In questo esattissimo modo Bravissimo Vai sulla destra Qui vai sulla sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Sul abbastanza estremo Ok Più su Ok Ora iniziamo a spostarci Verso di qui No, piano Devo rialzarmi un attimo Mamma mia Oh, cosa cacchio è? Ah, no, sì Questo mi porta giù Questo mi porta giù, sì No, frate, no Fratimo Fratimo non ho idea Di cosa ho appena fatto Calma e sangue freddo, ragazzi Calma e sangue freddo E si ottiene tutto quello che vogliamo Però te lo giuro Mamma no Basta Sono le sei Mi sta venendo Ti giuro, mi si sta No, ragazzi Ve lo giuro Ve lo posso giurare Che sento del dolore qua E tutto l'avambraccio Mi si sta Mi sta pulsando l'avambraccio E questa zona qua Della mano Non è normale Fra, non hai mai fatto Il P.U.P. di Minecraft Tu Lacustri Io vi ringrazio tantissimo Della visione Come al solito Se volete vedere altri miei due video Io ve li lascio qui E noi ci vediamo al prossimo Let's go